benvenuti oggi il maestro e lo scorpione un maestro sen vide uno scorpione a negare e decise di tirarlo fuori dall'acqua quando lo fece lo scorpione lo punse per effetto del dolore il maestro lasciò l'animale e di nuovo cade nell'acqua il maestro tentò di tirarlo fuori nuovamente e l'animale lo punse ancora un giovane discepolo che era lì si avvicinò e gli disse mi scusi maestro ma perché continuate a prendere lo scorpione non capite che ogni volta che provate a tirarlo fuori dall'acqua vi punge il maestro rispose la natura dello scorpione è quella di pungere questo non cambierà la mia che è quella di aiutare il maestro si fermò a riflettere e con l'aiuto di una foglia tirò fuori lo scorpione dell'acqua e gli salvò la vita poi rivolgendosi al suo giovane discepolo continuò ultimo non cambiare la tua natura se qualcuno ti farà del male prendi solo delle precauzioni in genere gli uomini sono ingrati del beneficio che li stai facendo ma questo non è un motivo per smettere di fare del bene di abbandonare l'amore che vive in te bene grazie per ascoltare io ti invio un abbraccio dal profondo del mio cuore a presto ci senti sapato